I due gol poi credo molto abbia votato quel rigore, l'ho visto alla fine quando si era dall'Arbico, non ti è parso chiarissimo. Ho visto gli episodi di tutti e due, sapete che io l'Arbico non considero come quando io non ho giocato a Stocco, ma ho avuto un'altra lazza, e oggi è l'altra lazza. Due episodi trattanti che sono all'impolterato, dove io non posso prevedere questo. Un fallo sul nostro giocatore, che era fermo, che era Lucchini. Un metto fuori gioco di Tavani, che nella serie dopo abbiamo preso il calcio d'angolo, che abbiamo fatto un gol. Dopo che abbiamo fatto una partita difficile, praticamente, abbiamo cambiato modo. Questa è la bravura di questa squadra, abbiamo avuto tante occasioni, ne abbiamo fatte due, ne abbiamo chierate altre. Tiri in porta, tranne uno, c'è stato questi due calci piazzati, più di questo noi non possiamo fare. Il pubblico ha apprezzato, c'è la mano in bocca perché erano tre punti già fatti. Io non mi sposto nella mia, vado avanti per così perché sono convinto che questa è la strada giusta. Dobbiamo andare a fare cose, c'è stato un giocatore da, che deve recuperare la condizione, l'hai visto? Però, in resumato, oggi abbiamo toccato un buon calcio.